A voi tutti ben ritrovati dal vostro Giuseppe De Vincis. Fase piovosa anche nei prossimi giorni, giungeranno altre perturbazioni, però per la giornata, guardate, di martedì ci sarà una pausa. Una pausa soprattutto al nord, quindi tempo in generale miglioramento, con qualche nuvola ancora al mattino e poi sul nord-ovest, sul versante tirrenico delle nuvole, anche sulla Sardegna, ma innocue, il sole non mancherà a tratti, quindi dove sarà ancora l'instabilità lungo il versante adriatico, in parte nelle zone interne dell'Italia centrale e all'estremo sud. Comunque, nulla di particolarmente rilevante, parliamo di rovesci, di pioggia qua e là, appunto di instabilità, ma, come detto, altre perturbazioni raggiungeranno nei prossimi giorni la penisola italiana. Attenzione, tempo in miglioramento al nord, ma giungerà aria particolarmente fredda, quindi soprattutto dopo il tramonto, attenzione, perché farà piuttosto freddo. Per il momento è tutto, buon proseguimento, arrivederci.